Al nome del gruppo Lega Nord Autonomie esprimo il cordoglio e la vicinanza alle famiglie colpite da questa ennesima sciagura inaccettabile, resa ancora più inaccettabile dal fatto che il luogo dell'incidente, come hanno ricordato anche i colleghi che mi hanno preceduto, avvenuto nella zona di Monteforte Irpino, dopo il casello di Avellino Ovest in direzione Napoli, apprendiamo a essere un tratto dove già in passato c'erano stati diversi sinistri. Su questo drammatico incidente che ha causato la morte di 39 persone è stata avviata un'inchiesta che vogliamo augurarci giunga velocemente ad accertarne la dinamica. Sicuramente questo ennesimo grave incidente ci ricorda drammaticamente che spesso la causa è da rintracciare nella pericolosità delle nostre infrastrutture, che hanno assolutamente bisogno di interventi per essere messe in sicurezza. Ogni anno contiamo sulle nostre strade tanti troppi incidenti, spesso mortali, che potrebbero essere prevenuti in buona parte se si investisse sulle nostre infrastrutture, ormai in molti tratti obsolete e pericolose. Rinnovo e concludo, a nome di tutto il gruppo, la vicinanza ai parenti di queste vittime della strada, ai quali speriamo arrivi presto una spiegazione. Grazie.